Da un lato Fulvio Tessitore, filosofo e storico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dall'altro Lorenzo Chieffi, ordinario di diritto costituzionale della Seconda Università di Napoli, arbitro don Doriano Vincenzo De Luca, direttore della rivista ufficiale della Diocesi di Napoli Iannuarius e parroco della parrocchia dell'Immacolata Concezione a Capodichino, dove si è tenuto il dibattito pubblico sulle ragioni del sì e del no rispetto al referendum costituzionale del 4 dicembre. Dibattito partecipato e acceso, animato dal livello dei due protagonisti, capaci di offrire un punto di vista autorevole e necessario. Tessitore e Chieffi raccontano così i loro punti di vista. Sì, io sono tenacemente per il sì. Devo precisare che non ho niente in comune, né culturalmente, né per età, né con regole comportamentali con il Presidente del Consiglio. Ma considero che l'ossificazione del Paese o si avvia verso una forma di modifica oppure non ha speranza di salvezza, il che non significa che andiamo a finire in mezzo al Mediterraneo, significa che siamo marginalizzati, il che già in parte è. Le ragioni del sì sono legate a un'esigenza di procedere alla riforma della nostra Costituzione che riguarda la parte organizzativa e deve conformarsi all'evoluzione della società, alla globalizzazione, quindi è un'esigenza di una decisione rapida che in qualche modo questa riforma cerca di realizzare. Le ragioni del no, e qui interviene il Costituzionalista, sono legate a una scarsa comprensibilità di molti di questi articoli che probabilmente, seppur con intenzioni volte in qualche modo encomiabili, però richiederanno uno sforzo interpretativo da parte del legislatore. Grazie. Grazie.